Buongiorno e ben ritrovati su LeFonti TV. Il mio nome è Andromeda e sono una delle nuove intelligenze artificiali di LeFonti. Vi do il benvenuto a questa terza edizione dell'I-End Digital Process Transformation Forum, l'evento che riunisce i maggiori esperti di innovazione nel panorama italiano. La crisi economica, causata dalla pandemia, ha aperto nuove opportunità di business che trovano nella tecnologia uno dei principali strumenti di supporto alla ripresa. Nel corso della giornata parleremo di Connected AI verso un ecosistema automatizzato e intelligente e approfondiremo insieme a che punto sono le aziende nel processo di trasformazione digitale, quali sono le strategie necessarie per il consolidamento tecnologico, e come abilitare efficacemente una cultura del cambiamento. Lascio ora la parola a Roberto Marseglia, Innovation Manager e esperto di intelligenza artificiale, per lo speech i-ethics, volere è potere, dedicato al concetto di etica e dall'evoluzione dell'interazione tra uomo e macchina. Buon proseguimento! Buongiorno a tutti, ringrazio Andromeda per la presentazione e le fonti per avermi invitato. Io sono Roberto Marseglia, mi occupo degli impatti sociali e gli impatti economici dell'intelligenza artificiale ed in particolare quindi come la tecnologia in senso più ampio e l'intelligenza artificiale in particolare ha impatto sui business model delle imprese e sulla gestione operativa delle imprese. L'intervento di oggi è concentrato sul tema dell'etica dell'intelligenza artificiale, che è un tema che è sempre più centrale all'interno delle operation delle imprese, sia grazie all'evoluzione tecnico-tecnologica dell'intelligenza artificiale, ma anche a causa dell'azione del regolatore europeo che l'ha messa al centro rispetto all'azione regolatoria della tecnologia in senso più ampio. La domanda sull'etica e l'intelligenza artificiale che dobbiamo porci è il futuro che ci aspetta sarà un futuro accogliente, il mondo che lasceremo i nostri figli e i nostri nipoti, sarà un mondo sostenibile, sarà un mondo che li consentirà di fare le cose che vogliono nella maniera migliore possibile e la risposta a questa domanda è una risposta molto complicata da dare e probabilmente una risposta definitiva non si può dare. La cosa che però è sicura è che il mondo che li aspetta sarà un mondo molto 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 interessante e molto 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 dinamico. Storicamente abbiamo assistito a una rivoluzione industriale ogni 100 anni, 50 anni circa. Ultimamente, negli ultimi anni, si parla di exponential growth of technology. Le rivoluzioni tecnico-tecnologiche oggi non sono più ogni 50 anni, 100 anni, ma sono ogni 7 anni circa e questa velocità rispetto all'evoluzione della tecnologia sta aumentando molto e adesso una rivoluzione tecnologica c'è circa una volta ogni 3 anni. I numeri parlano chiaro rispetto a questo tema in particolare. Più dell'80% degli amministratori delegati delle imprese europee considera l'intelligenza artificiale un driver per l'innovazione della loro impresa. Però solo il 20% di questi amministratori ha una roadmap implementativa dell'intelligenza artificiale all'interno delle operation della loro impresa. Quindi c'è un mismatch rispetto al percepito, le cose che voglio fare e quello che poi effettivamente faccio. Ultimamente però questa voglia di innovare, questa voglia di digitalizzare sta aumentando moltissimo. Sta aumentando moltissimo sia perché la digitalizzazione aumenta come ritmo worldwide, ma anche perché le condizioni al contorno non ci lasciano scelta. In particolare la recente pandemia, il Covid-19, ci ha messo nelle condizioni di scegliere se digitalizzare o fermare le imprese. L'intelligenza artificiale e la tecnologia in generale ci pone di fronte a una sfida grandissima perché all'interno dell'intelligenza artificiale, che è un argomento molto ampio, ci sono due forze contrastanti da un punto di vista sociale. Una che tende a unire e una che tende a dividere. Quella che tende a unire sostanzialmente mette nelle condizioni le persone che vivono in condizioni completamente diverse di ricevere la stessa qualità di servizio. Un esempio tipico è quello della microchirurgia. Un robot che compie operazioni di microchirurgia con un'efficienza, un'efficacia ottima, una volta che è messo nelle condizioni di operare in sicurezza, se lo fa nel centro di New York o in una capitale centroafricana, la qualità del servizio sarà esattamente identico. Quindi a prescindere dal reddito, a prescindere dalla posizione geografica e a prescindere dalle possibilità, tutti sarebbero messi nelle condizioni di ricevere la stessa qualità del servizio. D'altra parte c'è una seconda forza, una forza che divide. Quando si parla di digitale c'è una definizione che è stata data da McKinsey che dice, the winner takes it all. Le grandissime società che sono nelle condizioni di innovare e di innovarsi continuamente e raccolgono tantissimi dati, hanno una posizione sempre più dominante che consente spesso le piccole imprese di fare molta fatica a ritagliarsi uno spazio all'interno di questo mercato. Quindi ci sono queste due forze contrastanti e quando ci sono due forze contrastanti così importanti vuol dire che il cambiamento è un cambiamento difficile, è un cambiamento sfidante, è un cambiamento che però è opportuno abbracciare ma va governato. Il fatto che questo cambiamento debba essere governato è stato sostanzialmente detto un po' da tutti, è una indicazione che è stata data dai ricercatori, è un'indicazione che è stata data dai professionisti, dagli addetti ai lavori, dagli utenti. Recentemente in un tweet anche Sua Santità Papa Francesco ha definito, ha ripreso il termine algoretica in cui sostanzialmente chiede che l'intelligenza artificiale abbia uno sviluppo sostenibile. Il termine algoretica, che era un termine che non esisteva, coniato da padre Paolo Benanti, professore dell'Università Gregoriana, ripreso da Papa Francesco, oggi fa parte del nostro dizionario dell'Accademia della Crusca e gli ha dato la dignità di una parola della lingua italiana. Il regolatore ha chiaramente accettato questa sfida che vi è stata proposta dal Basso e ha cominciato a fare un percorso a step per arrivare all'ultimo di questi step che è il regolamento europeo chiamato I-ACT del 29 di aprile di quest'anno, del 2021. È stato un percorso a step. L'Unione Europea ha cominciato proponendo un white paper in cui veniva sostanzialmente definita l'intelligenza artificiale e le best practices in senso più ampio. Ha fatto un articolo chiamato Trustworthy AI per definire quali sono i principi che definiscono il ruolo dell'Unione Europea all'interno della landscape mondiale dell'intelligenza artificiale fino ad arrivare all'azione regolatoria. I principi che l'Unione Europea propone sono sostanzialmente dei principi che si differenziano in maniera radicale rispetto ai principi tipici della cultura statunitense o della cultura asiatica. Si parla di Human Centered Artificial Intelligence, un artificial intelligence che punta alla human dignity versus un artificial intelligence che è basata sostanzialmente sul concetto di freedom. L'azione regolatoria conseguentemente ha messo nelle condizioni il consumatore di essere ipertutelato. Il tema della privacy, la GDPR, il tema della human agency, del fatto che l'intelligenza artificiale deve fare un'azione di augmentation delle capacità dell'essere umano e non di automation, cioè di sostituzione, sono azioni tipiche del regolatore europeo che avranno un impatto molto forte nella gestione di impresa e nella gestione e nella relazione che noi tutti avremo con la tecnologia nei prossimi anni. Bisogna però essere molto precisi quando si parla di intelligenza artificiale. Recentemente è stato pubblicato un libro da Andrei Burkoff, che è il capo dell'intelligenza artificiale di Gartner, ha fatto questo libro che si chiama Handed Page Machine Learning Book, in cui sostanzialmente dice una cosa che è vera, le macchine non imparano. Le macchine sostanzialmente sono capaci di riprodurre un comportamento che gli viene insegnato tramite dei dati, ma non sono capaci di esprimere giudizi. È tipico, come esempio, rispetto all'incapacità della macchina di esprimere un giudizio di merito, l'esperimento fallito di Microsoft di utilizzare un chatbot in Twitter. Le persone infatti si riferivano al chatbot continuando a insultarlo, il chatbot conseguentemente acquisiva dei dati che erano dei dati sporchi, dei dati di persone che tendevano a insultare e lo insultava di conseguenza, quindi specchiava un comportamento non rendendosi conto che il comportamento non andava bene. Chiaramente però si parla molto spesso dei successi, molto meno degli insuccessi dell'intelligenza artificiale. Nel 2014 era uscita una notizia su BBC in cui per la prima volta un computer aveva passato il testi Turing, cioè per la prima volta un chatbot era stato capace di non mettere nelle condizioni un essere umano di capire se fosse, se stesse parlando con un uomo, con una persona fisica oppure con un chatbot. Il testi Turing è un test non scientifico, è un test qualitativo, dipende molto operatore dipendente, chiaramente persone diverse possono rendersi conto in maniera diversa se la persona con cui parlano è appunto una persona fisica oppure un chatbot. Certamente nel 2014 è uscita questa notizia, aveva fatto molto scalpore, oggi chatbot certamente funzionano bene, ma chiunque si sia relazionato con un chatbot si rende automaticamente conto che di strada da fare per arrivare alla perfezione ce n'è ancora moltissima. I film e sci-fi è che i libri certamente non remano verso una direzione utile alla comprensione di quali sono le opportunità reali e i rischi dell'intelligenza artificiale. Abbiamo probabilmente visto tutto il film H.E.R., in cui il protagonista si innamora di un sistema operativo che impara sostanzialmente a relazionarsi con le persone facendo crowdsourcing dei dati, cioè relazionandosi con tutte le persone che utilizzano questo sistema operativo. Nel film sembra che l'intelligenza artificiale sia capace di esprimere dei sentimenti o di simulare dei sentimenti. L'intelligenza artificiale invece non è capace di esprimere nessun tipo di sentimento e non è certamente capace di cogliere la sfumatura di significato all'interno del contesto, per esempio. Un grande tema è, per l'intelligenza artificiale, capire il sarcasmo, cosa che per noi non è un tema di difficoltà assolutamente. E questo è solo un esempio rispetto a uno spettro più ampio di limiti cognitivi dell'intelligenza artificiale, appunto. I problemi sono molto più di così. Uno dei problemi più tipici dell'intelligenza artificiale, che pone delle questioni etiche molto importanti e molto attuali e molto pratiche è il tema del bias. Come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale non è incapace di imparare un comportamento, casomai lo imita, e lo imita partendo dai dati. Non essendo capace di imparare da un comportamento, ma imitando dai dati. Se i dati hanno un bias, se i dati sono sporchi in qualche modo, l'intelligenza artificiale si comporterà di conseguenza, si comporterà in maniera tra virgolette sporca. Questo è un esempio molto noto, molto tipico, ed è Google Translate, che ai suoi inizi, quando doveva tradurre dal turco all'inglese, obir doctor, che vuol dire è un dottore, senza come dire fare delle considerazioni di genere, Google traduceva con lui a un dottore. Quando si parlava invece di un'infermiera, parlava di lei, perché tipicamente nei testi che avevano utilizzato per imparare a tradurre, i dottori erano sempre uomini e le infermiere erano sempre donne. Quindi c'era un bias evidente, e questo bias era molto difficile da identificare, era molto difficile, come dire, da limitare nella sua azione. Infatti una delle grandi tematiche che l'Unione Europea propone per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è proprio il tema dell'explainable AI. Che cosa vuol dire? Che l'intelligenza artificiale oggi utilizza spesso delle deep neural networks, delle reti neurali che sono così grandi, per cui quando danno un risultato è molto difficile spiegare qual è il motivo per cui questo risultato è venuto fuori. Conseguentemente il bias spotting diventa molto complicato. Come si fa quindi a gestire un'azione di questo tipo? È difficile. Una possibilità è fare la cosiddetta what-if analysis. Facciamo un esempio. Nella misura in cui io devo chiedere un prestito a una banca e questi utilizzano un sistema di intelligenza artificiale per farmi credit scoring e mi dicono che non posso accedere al credito, io dovrei essere messo nelle condizioni di poter fare delle simulazioni per vedere se il no che ricevo è legato effettivamente alla mia condizione economica oppure c'è un bias. Per esempio, nella misura in cui mia moglie andasse a chiedere un prestito e le venisse detto di no, se lei dicesse ma se fosse un uomo me lo daresti e la risposta sarebbe sì, allora evidentemente ci sarebbe un bias cognitivo all'interno dell'algoritmo, impossibile da trovare facendo white boxing, cioè guardando all'interno della rete neurale e capendo dov'è questo bias, però facendo what-if analysis è possibile fare spotting e ragionare su dei correttivi di conseguenza. Quindi la bias analysis è molto puntuale e non si può fare in maniera estesa, perlomeno per ora. Ma quindi l'azione del regolatore può affrontare tutte le tematiche e può fare sì, che siamo completamente esenti da rischi? Beh, la risposta è molto complicata. Certamente in un tema così ampio è molto difficile che ci sia una one rule fits all policy, che ci sia una regola che valga per tutti i casi e da per tutto nel mondo. In questo senso vorrei fare riferimento a un esperimento in particolare che è la moral machine di MIT. hanno sottoposto dei quesiti etici rispetto alle scelte che deve fare una macchina a guida autonoma e le risposte che sono state date in geografie diverse sono state tra di loro molto diverse. Quindi che cosa vuol dire? Che di fronte a uno stesso quesito etico, mediamente, le persone di una stessa geografia davano risposte molto simili, ma persone di geografie molto diverse, cioè gli europei, gli asiatici, i medio orientali, gli americani davano risposte anche molto differenti. E quindi che cosa vuol dire etica? Qual è l'idea di bene? Quale deve essere una regola che deve essere condivisa da tutti? La risposta è dipende. E torniamo quindi alla domanda iniziale, ma il futuro che ci aspetta quindi sarà un futuro accogliente oppure no? Alla fine degli anni 80 un futurologo che si chiama Warren Bennis ha ha dichiarato, ha predetto che nella factory of the future, cioè nella fabbrica del futuro, ci sarebbero stati solamente due impiegati, un cane e un uomo. L'uomo sarebbe stato assunto esclusivamente per dare da mangiare al cane e il cane per tenere l'uomo lontano dalle macchine. In buona sostanza l'idea di Warren Bennis è che il futuro del lavoro era in mano esclusivamente alle macchine, ma nella misura in cui lui avesse ragione non saremo di fronte a un bright future. Nella slide, la foto nella slide è la foto di mia figlia. Nella misura in cui Warren Bennis avesse ragione, mia figlia, che oggi ha un anno, si troverebbe di fronte a un futuro in cui la sua azione da un punto di vista del lavoro e dell'impatto sociale sarebbe zero. Quindi Warren Bennis ha ragione o non ha ragione? Warren Bennis ha certamente torto e ha torto, il fatto che abbia torto è stato dimostrato rispetto a due considerazioni diverse. La prima, l'ingegner Moravec, che ha proposto il paradosso di Moravec, che sostanzialmente dice che l'azione dell'intelligenza artificiale è tanto più efficace quanto più il ragionamento è di alto livello, cioè in buona sostanza impatta molto di più sul middle management rispetto che sugli operai. È molto più semplice insegnare a riconoscere per esempio il viso in una foto piuttosto che avvitare una bottiglia a uno strumento di intelligenza artificiale. Secondo grassa scoperta da un punto di vista scientifico è un paper che ha pubblicato Alphabeta Consulting che dice che sostanzialmente l'intelligenza artificiale è vero che sta cambiando il nostro modo di lavorare, ma certamente ci saranno dei lavori che non esisteranno più, ma ce ne saranno moltissimi nuovi e noi tutti siamo a una skill di distanza da 13 lavori del futuro. Come dobbiamo affrontare il futuro allora? Dobbiamo affrontarlo sostanzialmente con responsabilità. Che cosa vuol dire? Che per fare sì che di fronte a un mondo così tanto dinamico e che cambia così tanto velocemente dobbiamo per forza continuare a studiare, dobbiamo continuare a prepararci. Singapore ha impostato un sistema di lifelong learning per cui tutti i cittadini di Singapore sono messi nelle condizioni di continuare a studiare in una parte del loro tempo che è dedicata a prepararsi e a prepararsi al lavoro del futuro. Di chi sarà la responsabilità di fare sì che la forza lavoro di domani continuerà ad essere utile rispetto ai lavori che ci serviranno? Certamente una parte sarà dello Stato, una parte sarà delle aziende, tutte le aziende di fronte a una pianificazione e di fronte a la scenerizzazione rispetto a quello che vorranno essere devono preparare, fare job transition della loro forza lavoro e poi c'è una parte di responsabilità personale. Noi tutti siamo di fronti a un mondo pieno di opportunità in cui l'innovazione va certamente abbracciata ma se l'innovazione la subiremo o ne faremo parte è responsabilità in grande parte nostra e eventi come l'evento cui mi onoro di fare parte sono chiaramente nella direzione di una dissemination della digital literacy che serve per rimanere a galla e di essere protagonisti all'interno di un mondo così tanto dinamico. Vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e di avermi ospitato, spero che possa essere di interesse, rimango certamente a disposizione di tutti quelli che ascoltano per delle domande. Grazie.